Marco Fenoglio, coach di Vivi all'Alto Tevere, due battute sulla bellissima vittoria di sabato e poi ci proiettiamo verso l'Abrebanca Lanutti Cuneo, sempre in diretta televisiva e sempre di sabato Allora, Ravenna? Ravenna non è stata una bellissima partita, cioè è stata una partita utile, diciamo così perché la qualità del gioco non è stata predominante, però a noi non serviva giocare bene perde la partita, non serve a giocare e vince la partita, quindi questo è stato fatto e è stata una grande occasione per chiudere il discorso playoff Ora sabato c'è la gara con Cuneo in diretta Rai, sono tre gare che mancano al termine di questa stagione e poi i playoff, ancora non sappiamo con chi giocherà San Giustino ma comunque una mini preparazione credo che tu la possa fare a questo punto, no? Noi la faremo la settimana prossima, prima di Modena in modo poi da fare un lavoro di trasformazione per Castellana Grote e avere la preparazione che ci permetta di fare tre partite forti ai playoff Cuneo è una squadra che piano piano sta risalendo, stranamente dopo l'uscita di Mastrangelo che gara ti aspetti? Che gara mi aspetto, Cuneo è una squadra sulla carta inarrivabile per noi perché la qualità dei giocatori è troppo alta, però non si sa mai nella vita forse noi stiamo cercando da tanto tempo anche di fare una partita grossa in casa con una di queste squadre qua, magari che sia la volta giusta proprio contro Cuneo che per me sarebbe anche una bella cosa Allora detto che gli stimoli non dovrebbero mancare però delle due chi ha più da perdere sinceramente è Cuneo Cercherete di provare delle cose che non avete provato nell'arco di questi primi mesi complice anche i risultati che poi dovevano venire? Sì, sicuramente con loro proveremo a mettere forte la battuta in salto che senza quella con loro non si può giocare quindi sicuramente quello sarà il cambiamento più grosso visto che fino adesso le partite importanti le abbiamo gestite tutte con la battuta flottante con cui non si può giocare con la battuta flottante quindi lavoreremo per inserire forte la battuta in salto Ritornando alla gara, che gara sarà? Perché sinceramente provare a fermare qualcuno di Cuneo potrebbe essere anche un po' difficile però prima o poi San Giustino dovrà pur vincere una gara contro una Big, no? Forse è vero che fosse questa, la volta buona solo che Cuneo è tanto forte è stata costruita per vincere lo Scudetto quindi è un po' più forte di noi quindi bisogna vedere come vanno le cose Hai più o meno pensato a come dovrebbe essere l'incontro playoff? perché probabilmente dovrebbe uscire una tra Latina e Vivo Hai qualche preferenza tra le due? No, no, io adesso devo pensare a Cuneo poi dopo a Modena e a Castellana poi dopo vedremo Michele Menghi, assistant coach di Vivi Alto Tevere e San Giustino molto bene i ragazzi di Fenoglio contro Ravenna molto bene Michele in tutto il campionato Assolutamente sì la partita di domenica è stato il coronamento praticamente di tutta la stagione ci ha permesso di centrare l'obiettivo dei playoff con tre giornate d'anticipo e siamo molto soddisfatti Ora ci sono da affrontare tre gare Cuneo in casa Modena fuori Castellana in casa con che spirito li affronterà Vivi Alto Tevere? Sicuramente andremo in campo in tutte e tre le situazioni per cercare di fare risultato sappiamo che sono due su tre partite abbastanza impegnative specialmente sabato prossimo con Cuneo che sta attraversando veramente un periodo di grande forma la stessa Modena sta attraversando anche loro un buon periodo ma sicuramente non andremo in campo con la tranquillità e la serenità di riuscire a fare i più punti possibili per mettersi nelle condizioni migliori nella griglia dei playoff Condizioni migliori che con tutta probabilità potrebbero esserci perché San Giustino avrà modo di prepararsi per tempo la matematica certezza di partecipare ai playoff è stata raggiunta con tre giornate di anticipo non sappiamo ancora con chi potrebbe essere una tra Vibo e Latina però tant'è comunque sia a questo punto chi viene viene no? Assolutamente sì non abbiamo nessun tipo di preferenza né di giocare né con Vibo né tanto meno con Latina noi siamo molto soddisfatti dell'obiettivo raggiunto e affronteremo sicuramente questo primo turno dei playoff determinati e spiatati per poter provare a passare il turno che sarebbe veramente la ciliegina sulla torta una stagione che già ci ha visto ampiamente protagonisti fino ad oggi Tornando indietro di sette mesi all'agosto del 2012 ti saresti aspettato una squadra così torta? Ma già dai primi allenamenti in fase di preparazione c'era una gran voglia di lavorare una gran voglia di fare bene determinazione perché per molti era il primo campionato di Serie A1 e quindi avevano tutta la voglia e la determinazione di mettersi in mostra è una squadra molto caratteriale che vende sempre cara la pelle indipendentemente dalla squadra che ha di fronte da dover affrontare siamo tosti e lo dimostriamo tutte le domeniche ma la domenica è solo il frutto del duro lavoro settimanale che quotidianamente affrontiamo